Ciao Stavi parlando male di mio padre Io? Io? Ma no, ma no, certo che no, no Invece sì, ti ho sentito No, io veramente stavo solo facendo un piccolo sondaggio nella nostra comunità, ecco Allora vado a dirglielo adesso Non farlo, non farlo, ti scongiuro, stammi a sentire, ti offro un gelato, facciamo così, tieni, ecco dei soldi Così risolviamo il problema Stai cercando di corrompermi così? Sai già cos'è una mazzetta, bambina? Facciamo così, ti offro due gelati, così siamo a posto Ti devi solo vergognare Bambina, santo cielo, così mi metti in imbarazzo Mi hai detto questa cosa con una tale convinzione, non procurarmi altri guai, per favore Papà! Sì! 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 Sì!